Appuntamento politico domani sera in piazza Sant'Agostino, finisce l'emergenza, torna alla politica. Direi di sì, direi che questa giunta, la giunta Ghinelli e Al Capolinia, appena iniziato ma è già Al Capolinia, i guai giudiziari, la città abbandonata, il decoro, una città lasciata a se stessa con Ghinelli che pensa ad altro ed una giunta assente in città. Per questo abbiamo deciso prima della pausa estiva di ritrovare i tanti cittadini, le tante cittadine, le forze politiche, le forze sociali che in questa città si stanno opponendo a questa cattiva amministrazione per iniziare a costruire il percorso per un'alternativa vera a questa amministrazione. Giovedì sera, domani sera in piazza Sant'Agostino, finalmente all'aperto e finalmente credo un grido unico Ghinelli allora che torni a casa e che si torni a votare. L'appello è di Arezzo 2020 per tutte le forze politiche, culturali e sociali di opposizione? Sì, l'appello è di una lista civica che ha contribuito, che sta partecipando ovviamente ai lavori del Consiglio Comunale ma è rivolto non tanto e non solo alle altre forze politiche ma ai tanti cittadini arrabbiati, indignati, ai tanti elettori anche di Ghinelli che oggi si sono pentiti di averlo votato, me lo hanno detto, ce lo stanno dicendo. Quindi credo c'è una città pronta ad un'alternativa importante a questa amministrazione. Iniziamo a gettare i semi per questo percorso. Mi levi una curiosità, ma ci sarà anche il neosegretario cittadino del PD? Ma in contemporanea c'è il congresso, con Matteo abbiamo parlato, sono contento, hanno trovato un accordo, sono contento che il Partito Democratico a questo punto arriverà rinforzato, credo dopo l'estate, per un percorso politico comune. Non so se Matteo verrà, verranno sicuramente degli esponenti del Partito Democratico.